Per questo 2020 niente messa di mezzanotte. Con le nuove misure dovute all'emergenza coronavirus, anche la sera della vigilia tutti i fedeli dovranno osservare il coprifuoco dalle 22 alle 5. Con il DPCM del 3 di dicembre la conferenza episcopale italiana ha ribadito che sarà necessario prevedere l'inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il coprifuoco, ovvero tra le 18 e le 20, così da garantire ai partecipanti di essere a casa entro le ore 22. Anche le sante messe nelle parrocchie della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola verranno anticipate, questo per far posto alla priorità del momento, ovvero la salute pubblica. Anche quest'anno è Natale e dobbiamo riconoscere che tutto questo non viene impedito dal Covid. Vi invitiamo veramente quindi a partecipare al Natale in quest'anno tenendo conto che le celebrazioni natalizie hanno una grande ricchezza perché sono natalizie le celebrazioni della Messa Vespertina, della Messa della Notte, dell'Aurora e del Giorno, quindi tutte le parrocchie che sono a Fano e nella nostra diocesi si stanno organizzando, quindi in genere verso le 7, le 7 e mezza, le 8, tutte le parrocchie si stanno organizzando per la Messa della Notte. È importante che ciascuno di voi possa prendere parte nella propria parrocchia e per questo vi invito anche a guardare il sito della diocesi e le informazioni che verranno dai social perché stiamo predisponendo qualcosa che permetta a tutti di conoscere i diversi orari. Come sempre i parroci dovranno far rispettare le regole anti-assembramento dei fedeli sia per la Santa Messa della Vigilia che per quella di Natale. Per quanto riguarda la Messa di Natale non dimentichiamo che il 25 dicembre è una data convenzionale, Gesù non è nato il 25 dicembre, noi lo facciamo perché in un cronografo del 354 un letterato scrisse che nel 336 a Roma si celebrava la nascita di Gesù e questo ci ricorda come in quel giorno il solstizio d'inverno appena avvenuto faceva sì che la luce prendesse il sopravvento sulle tenebre. Ecco io mi auguro che anche quest'anno con il nostro comportamento non facciamo come Erode che ha ucciso Gesù e per poterlo fare mi auguro che veramente ognuno di noi possa vivere questo Natale soprattutto accogliendo i messaggi di condivisione, di solidarietà e di amore. Intanto per chi non potrà spostarsi oppure partecipare alla Santa Messa di Natale del 25 dicembre, Fano TV trasmetterà alle ore 11 in diretta sul canale 17 e visibile in tutta la regione Marche la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Armando Trasarti dal Duomo di Fano.